Oddio che freddo è! Ah è freddino! È bellissimo, è bellissimo Finché è ancora autunno è bellissimo È il freddo invernale che mi preoccupa Ma per adesso è tutto fantastico Ieri mi sono messa a guardare l'app dell'Economist Perché è un giornale che mi piace molto E volevo vedere se tipo Non so, potevo comprare un issue Un numero oppure magari fare un'iscrizione Così cos'ha Le iscrizioni va bene neanche parlarne Perché sono così sovraesposta, aiuto E volevo comprare il singolo numero E costa 7,99 euro 7,99 euro Sono troppo povera per essere acculturata ragazzi È mercoledì, non ho ancora deciso cosa fare per venerdì Se fare una cover, quale cover fare, se fare qualcos'altro che avevo in mente Non ne ho idea Quindi vedete che siamo messi benissimo Però fortunatamente ho il mio gatto sopra di me Quindi sono abbastanza contenta Però ho girato il video di oggi È molto shallow, molto tranquillo Adesso molto lentamente sto caricando, esportando, caricando eccetera eccetera È sempre un processo molto lungo Poi dopo la mia lezione di lingua E dopo vado al lavoro Quindi ho veramente poco tempo per preparare il video di venerdì Che è tipo il più importante Non sono molto ispirata Come avrete visto nel video della personalità Non sono una persona che pianifica Cioè ci provo a pianificare Ma poi cambio idea Quindi è un po' inutile Però mi dà una struttura Quindi non può essere utile, non lo so Comunque qui c'è a me lì E quindi è tutto bello Ehi raga Sì mi è ancora rimasto il lessico da adolescente ok Non se ne esce Oggi non ho combinato nulla per voi Praticamente Cioè sì Perché sto imparando a usare delle cose Che voglio integrare nel canale Ed è durissima Molto più dura di quanto pensassi È tutto molto molto complicato Quindi avevo idea di far uscire una cosa diversa questo venerdì Ma non ce la farò Perché non sono riuscita a combinare nulla Solo ho dovuto imparare delle cose O avrete ricevuto una cover venerdì Che magari adesso mi viene il colpo di genio E mi viene in mente cosa fare Perché tuttora oggi è giovedì E non ho idea di cosa Di che cover fare Quindi non lo so Però potrebbe anche essere che mi viene l'idea E in 4-4-8 la faccio Oppure non è uscito niente Mi sento un po' di merda Per questa eventualità sinceramente Però vabbè Adesso devo andare dal dentista Sono stati dei giorni in cui Ho lavorato tutti i pomeriggi Oggi devo andare dal dentista Quindi mi spezza ancora la giornata Quindi mi sento un po' una cacca Perché sono stata tutto il giorno al computer E non è venuto fuori nulla E adesso devo andare dal cazzo di dentista Per una carie Cazzo ho fatto un male assurdo